tipo peperoni all'uovo il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Ora ci vedo un cacco, c'è da giù un cacco, ma questa che cos'è? La palestra va qua, le strane cose, che strane, si vabbè, Dimmi che sei scemo cosa, youtube, devi piegarlo, tira e pieghi, si vabbè, quello più difficile lui l'ha preso, Secondo me neanche io non riesci a farlo, ecco adesso stai qua per almeno tre ore, Non si può che sei scemo, aspetta che senza flash è meglio, è giusto, è buono, ci ne sono anche altri, abbiamo trovato un'altra via, Io voglio provare uno di quello, senza ammazzarli, voglio provare uno di questo, anche se sto bollendo, eh? Questo è facile, adesso voli. Vediamo se riesco a farlo anch'io senza farmi male, qua c'è tipo un fiume ma non si vede niente, tutto buio, secondo me cado, No, non riesco col telefono, io cado, secondo me si diverte, ti diverti? Secondo me si, ciao va. Vediamo se riesco a farlo zoom. Allora, qui c'è la frutta. Qui c'è la frutta. Ci sono i negozi. Quando, qui c'è la frutta, troppo è? Grazie. E' molto bello? E' molto bello, no? Questo è tipo un ristorante. ma quanti negozi ci stanno è lunga la passeggiata va che bello molto carino Ma dove? Sembra un elefante. Era meglio. Però era meglio l'altro. Alla fine siamo andati nei negozi a prendere qualcosina. Mezzo shopping. Poi vi farò vedere lo shopping però in un video a parte dei vlog. Perché secondo me è più bello. In tutto abbiamo speso 53 euro per 4 magliette. Cioè 13 euro a maglietta se non mi sbaglio. Più o meno. E comunque vi farò vedere in un video a parte i vlog. Gli acquisti che faccio. Detto questo. Ci vediamo domani. Perché sono. Sto morendo. Sono. Sto bollendo come non so cosa. Non so se si vede. Vabbè. Lasciamo perderci. Vediamo domani. Abbiamo prenotato due escursioni. Uno lo facciamo 12 che domenica e l'altro 13 che lunedì praticamente gli ultimi giorni in cui prima di partire. Uno è Caron di scursioni. E invece l'altro è Pipi. In totale abbiamo speso 480 euro. Invece in Bat sono 8.000. Un'8.000 e l'altro 6 e qualcosa. In due dovevamo pagare 45.000. E ci dobbiamo svegliare alle 5.20. Che bello. Comunque. Qua è l'agenzia. Come si chiama? Aspetta. Dov'è? Dov'è? Amici di Phuket. Siamo andati. Non ho ripreso l'agenzia perché sinceramente non so se si poteva. Questa si mangia e si beve. Cucco, 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 cucco. Un gusto strano. Non è come il nostro italiano. Non è come il nostro lavoro. Non è come il nostro lavoro. Non è come il nostro lavoro. Ancora nell'alco 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 De, non riesco a leggere l'incontrario, qualcosa del genere, è l'incontrario, comunque l'ha messo all'incontrario, comunque è grande, cioè questo qua è enorme, ci stanno due persone, non è male, è leggero come tessuto. Cioè, no, forse questo è, no, sono tutte due leggeri, però è molto bello, abbiamo fatto una bella scelta, non male come scelta, e infatti 5 euro, ah, 11 euro questo qua grande con gli elefanti, e 5 euro questo che non è male perché, cioè, è lungo, cioè, ditemi voi com'è. Cioè, secca, se è bello. E niente, questi sono stati gli acquisti, sono le, no, è quasi mezzanotte, se non mi sbaglio, oggi abbiamo fatto tardi, e abbiamo preso questi due, e poi vi farò vedere i nuovi acquisti, quando ho, allora, non è finito, perché voglio prendere tantissime cose qua, e voi li vedete poi, non so se riuscirò a metterli prima dei blog, o dopo i blog, o non lo so, comunque vedete acquisti diversi, invece dei blog. Comunque non so se lo stai usando come coperta, non so. Quelli le usiamo domani, che non è male. Ma non ho spazio. Se ne frega. No, per me lo usiamo. E poi abbiamo comprato l'ombrello l'altra volta, che però non ve l'ho fatto vedere, è quello lì. Però tanto, in teoria si è rotto dopo neanche un giorno. L'abbiamo pagato 10 euro. E per il sole così, però alla fine, vabbè, alla fine, niente. Non so che cosa devo dire, ma perdo via. Allora, asserziamo queste patatine. No, voglio la fanta... Vabbè, ho sbagliato. Vabbè, fai niente. L'acqua. Oggi è l'8 gennaio. Ovviamente non so questi video se li metterò insieme, se li metterò... Dipende quanto durano. Se li metterò un giorno per uno, non lo so. Però so solo che ho due settimane. E in due settimane tutti questi vlog non credo che riuscite a vederli. Per cui se ne parlerà anche a febbraio. E in questi due mesi ci saranno tante cose. Niente. Io bevo. Provo ad assaggiare queste patatine. E poi vado a letto. Perché domani, come sempre, ci dobbiamo svegliare presto. Non so perché qui chiudo questi vlog quando sono in camera. Che vi faccio vedere quello che ho comprato. Non lo so perché. Se mai vi metto qualche scena a fine vlog così sarà più bello. Perché se devono finire tutti così, ciao. Al prossimo vlog. Al prossimo vlog. Che meglio.